Qui vi presentiamo le 5 migliori set di posate per bambini. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Chicco Posatine Inox 18M+. La collezione comprende due posate cucchiaio e forchetta adatte ai più piccoli dai 18 mesi in su, se il bambino è già in grado di consumare da solo. È un modello Unisex in acciaio inossidabile, con un manico in plastica che garantisce una tenuta eccezionale. In lavastoviglie senza rischi, le posate hanno infatti forme arrotondate per lasciare il bambino libero di scoprire in massima sicurezza, rispetto alla parodontite e anche la bocca. Passando al numero 4. Ex-Sac Posate per bambini 6 pezzi in acciaio inox, posate bimbi. Ci sono 6 posate composte in questo set funzionale 2 forchette, 2 coltelli e 2 cucchiai, tutte lavabili in lavastoviglie. Costruiti in acciaio inossidabile lucido, hanno una plastica colorata difficile da pulire, in pugnatura antiscivolo. Prontamente disponibili in diverse tonalità. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Silit posate per bambini peluche 4 pezzi. Composto da una lama, una forchetta, un cucchiaio e un cucchiaino, questo elegante set in acciaio inossidabile attribuisce piccoli disegni vivaci di animali domestici sui gesti. Felino sulla forchetta, cucciolo sulla lama, coniglio sul cucchiaio, anatra sul cucchiaio. Le posate, adatte a bambini dai 3 anni in su, sono lavabili in lavastoviglie e di conseguenza possono essere utilizzate tutti i giorni. Almostat è top of our list at number 2. Willing Bino set di posate per bambini. Questa collezione di 4 posate per bambini cucchiaio, coltello, forchetta, cucchiaino rimane in acciaio inossidabile 18-10 lucido. Pratici e anche di facile manutenzione, possono essere tranquillamente utilizzati tutti i giorni e sono lavabili in lavastoviglie. Sono impreziositi dalla scritta alleviativa di 4 animaletti un felino forchetta, un coniglietto coltello, un anatra cucchiaio e un orso cucchiaino. E infine il numero 1 della nostra lista. WMF set posate bimbo principesse Disney. Si tratta di un set completo di posate in acciaio inossidabile 18-10 lucido, contenente lama, forchetta, cucchiaio e cucchiaino. È dedicato alle donne dall'età di 3 anni le principesse Disney sono raffigurate in ombra su tutto il manico. Resistenti agli acidi e ai graffi, le posate sono lavabili in lava, per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.